Intervento d'urgenza dei vigili del fuoco a Denego. A luna di venerdì in via Cornetta i pompieri sono dovuti intervenire per l'incendio di un serbatoio di gpl interrato innescato da un fulmine. L'allarme alla sala operativa da un vicino di casa dell'abitazione interessata che si trova in mezzo al bosco. Al momento dell'evento non c'era nessuna persona in casa. I pompieri di Asiago hanno iniziato l'opera di raffreddamento dell'involucro controllando le fiamme. In supporto alla squadra di Asiago gli specialisti del nucleare biologico chimico radiologico di Mestre che hanno provveduto alla bonifica del serbatoio. È un intervento molto delicato perché bisogna aspettare che il gas smetta di bruciare.